Si raccusa droga, lockdown, bilancio cospicuo dei carabinieri che hanno pescato 66 assuntori. Il lockdown per gli spacciatori è sembrato sempre la marca di una gomma da masticare, per i carabinieri invece il profumo di arrosto di pesciolini pusher. Difatti anche nella fase 1 del contenimento della diffusione del Covid-19, periodo caratterizzato da misure di tale rigidità da essere ricordato con il nome di lockdown, ha proseguito il triste fenomeno del consumo di sostanze stupefacenti. Pur con un ovvio ridimensionamento, i numeri complessivi sono stati comunque significativi, poiché i carabinieri del Comando Provinciale di Siracusa, attraverso i reparti dipendenti, nell'ambito dei servizi di controllo del territorio per verificare la corretta applicazione delle misure di contenimento del coronavirus, hanno sorpreso e sanzionato diverse persone che hanno deciso di violare il lockdown solo per andare a ripetere sostanze stupefacenti per il loro uso personale. Tra il 9 marzo e il 3 maggio, i militari dell'arma hanno infatti segnalato alla Prefettura di Siracusa per uso personale di stupefacenti addirittura 66 persone, delle quali ben 37 nel solo capoluogo, sorprese in genere nell'ambito dei servizi effettuati in prossimità delle più note piazze di spaccio. I soggetti, oltre a vedersi sequestrati dalla droga e essere segnalati dall'autorità amministrativa, sono stati sanzionati per la violazione delle disposizioni ministeriali sul contenimento della pandemia, ovvero con la contravvenzione da 400 a 3.000 euro aumentata fino a un terzo quando la violazione è avvenuta mediante l'utilizzo di un veicolo. I risultati sottolineano l'impegno dell'arma a ritusia nel contrasto all'uso degli stupefacenti anche in un periodo di intensa e inedita emergenza sanitaria.